Le truppe componenti e le guarnigioni usciranno da Sant'Elmo con l'onore delle armi e potranno scegliere di imbarcarsi sopra i bastamenti parlamentari che saranno loro preparati per condursi a Tolone. Tutte sciocchezze. La regina vi raccomanda di trattare Napoli come fosse una città ribelle d'Irlanda. Non trattate con i nemici di questo regno, non vi curate degli accordi di ruffo e non abbiate riguardo del loro numero. Grazie.